ecco dove sono questa grata conduce ai bagni pensi di saperci arrivare ma certo raggiungere i bagni da qui sarà facilissimo bene ci vediamo là lo chiederò la prima creatura di sabbia che incontro mi indica la strada per i bagni per cortesia grazie di cuore ma le pare da vivoro inseriente ai bagni ci vediamo ai bagni mi dà gli ordini come se fossi il suo servo ed è colpa mia a una donna devi far capire subito chi è che porta i pantaloni o si prenderà troppe libertà sono stato troppo indulgente forse perché mi faceva pena ma adesso basta d'ora in poi dovrà mettersi in riga sempre che riesca a trovarla iscriviti al canale